Tutti i tifosi, acefali, non riescono a capire nulla, non leggono, non si informano, si bevono le minchiate dei loro leader senza fare le giuste considerazioni, ma è mai possibile tanta stupidità e ignoranza, io non ce l'ho mai assoluto, sono rotto i coglioni, colpa tua che te la prendi troppo, che ti fa il sangue amaro, fottitene, vidi la tua vita, non rompere i coglioni e non farti rompere i coglioni da gente, allora io devo fare come tutti gli altri, devo star zitto, subire, senza poter recriminare, devo stare in silenzio, giusto? Certo che c'è la soluzione, ricordi il film di Maccio Capatonda in cui esisteva una pillola che ti consentiva di arrivare ad usare soltanto il 2% del tuo cervello? ecco, io ne ho una che ti consentirà di utilizzare solo 0,4%, proviamo! proviamo! ma vaffanculo, vaffanculo Salvini, vaffanculo Salvini, tu sei un flechista e sei un leghista di merda e non devi scindarsi, vaffanculo Salvini e viva il Presidente Conte, e viva il Presidente Conte, e viva, e viva, grazie Presidente Conte, grazie! grazie! grazie!